Una vita, anticipazioni spagnole, la fine di un amore Anticipazioni Una vita, puntate spagnole, Rosina lascia Liberto? L'amore tra Rosina e Liberto sarà messo a dura prova nelle puntate spagnole di Una vita. La vedova di Maximiliano presto si lascerà andare alla passione intrecciando una relazione con il nipote di Susana Aiutata dal fantasma del marito, che la spronerà a non pensare al passato, tuffandosi in una nuova relazione, la madre di Leo non riuscirà finalmente a ritrovare la felicità accanto a Liberto Il loro amore sarà però minato dalle male lingue e dall'atteggiamento bigotto di molti dei residenti di Acacias 38 che guarderanno male la relazione della vedova di Maximiliano con un ragazzo molto più giovane di lei Sarà in realtà Susana una vita a mettere i bastoni tra le ruote al nipote e alla sua nuova compagna. La donna architetterà un piano per dividerli Riuscirà Susana ad allontanare per sempre Liberto e Rosina, oppure l'amore trionferà? Nelle prossime puntate della Sop Spagnola, in onda in Italia dal lunedì al venerdì, dalle 14.10 alle 14.45, ci sarà un duro scontro anche tra Ursula e Guadalupe L'istitutrice infatti cercherà di insinuare nella mente della madre di Manuela che Cayetana è la responsabile della morte della figlia e di Germanna. Una vita, episodi spagnoli, Guadalupe viene brutalmente uccisa Le anticipazioni di una vita svelano che Guadalupe affronterà Cayetana. La Sotelor però confesserà che ad uccidere Manuela e Germanna è stata Ursula. La domestica si scaglierà così contro l'istitutrice. Ursula minaccerà Guadalupe con delle forbici Lo scontro verbale tra le due si trasformerà in un duello. Durante la colluttazione un incidente causerà la morte della madre di Manuela Nella prossima puntata di Una vita ci saranno altri guai per Imanzano. Pablo infatti, trasgredendo i consigli dei medici, continuerà ad andare a cavallo Il ragazzo però cadrà nuovamente, preoccupando tutti, specialmente Leonor. Pablo si riprenderà? Riuscirà il fratello di Manuela ad abbandonare il suo sogno di aprire un maneggio? Dopo la scoperta sconvolgente a Una vita, anche Cayetana finirà in grossi guai La dark lady sarà incastrata da Mauro e finirà in carcere con l'accuso di aver aggredito Mildad. La cattiva della Sop verrà poi trasferita in un convento, dove inizierà a perdere la sua lucidità a seguito dei soprussi subiti Sarà Teresa a prendersi cura chi chi le ha rubato l'identità. Cayetana uscirà presto dal convento e sarà affidata a Teresa Sierra. L'appuntamento perciò con Una vita è da lunedì al venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 su Canale 5 L'appuntamento perciò con Una vita è da lunedì al venerdì, dalle 14.45 su Canale 5